Una volta che avrai sincronizzato simultaneamente tutte le directory che sono rilevanti per il tuo settore e collegato i tuoi account di social media in modo da avere tutte le notifiche della tua presenza online in un unico posto, Ranking Coach 360 ti aiuta ad ottenere visibilità per il tuo sito web, tenendo sotto controllo la tua reputazione in modo rapido ed efficace. Ti faccio vedere come. Accedi alla dashboard e vai alla sezione gestione della reputazione. Da qui puoi vedere tutte le recensioni che i clienti hanno pubblicato sulla tua azienda. Ranking Coach ti invia una notifica appena ricevi una nuova recensione e ti permette di rispondere alla recensione direttamente dal tuo account. Se clicchi su statistiche puoi effettuare un confronto con la concorrenza locale grazie a una lista messa a tua disposizione. Il confronto con la concorrenza è uno strumento che rende ben visibile la competizione per il miglior risultato di ricerca. Ti mostra la classifica attuale ma anche l'andamento degli ultimi giorni.